la lezione di oggi e pronomi diretti e indiretti iniziamo con questi esempi dei pronomi personali diretti scusi dove il ponte vecchio notiamo che la frase sottolineata il ponte vecchio è un complemento d'oggetto diretto in arabo vuol dire e lì lo vedo subito la frase normalmente vedo il ponte vecchio subito abbiamo sostituito la frase il ponte vecchio con il pronome personale diretto lo la seconda frase daniela guardi la tv no ora non la guardo la frase normalmente ora non guardo la tv pronomi diretto la sostituisce la parola la tv ragazzi quando fate i compiti i compiti qui è un complemento d'oggetto diretto li facciamo stasera normalmente facciamo i compiti stasera lì qui sostituisce il complemento d'oggetto dire diretto i compiti l'ultima frase bruno hai gli sigarette no non li ho normalmente no non ho le sigarette dunque le sostituisce le sigarette che è il complemento d'oggetto diretto dunque il pronomi personale diretto sostituisce il complemento d'oggetto diretto per evitare la ripetizione i pronomi diretti sono mi ti lo la ci vi li e le quando il complemento d'oggetto diretto in me dunque il pronomi diretto è mi quando è te ti quando è un una parola singolare maschile dunque lo ad esempio il libro carlo quando è femminile singolare come la lezione teresa mettiamo la quando ad esempio il complemento d'oggetto diretto è noi mettiamo ci quando è plurale maschile mettiamo di quando il plurale femminile mettiamo le li i compiti le le chiave signor rossi signora rossi mettiamo la maiuscola per la forma di cortesia plurale le signori rossi mettiamo le maiuscole la adesso i pronomi indiretti vediamo questa tabella che contiene degli esempi che contengono i pronomi indiretti mi chiederà di venire questo film ti è piaciuto gli spiegherete le regole di grammatica le parlerete dei vostri progetti ci daranno e non che non vogliono partire non vi ho proposto niente gli regalerete un bel viaggio regalerete loro un bel viaggio allora le parole che sono in verde e sottolineate sono dei pronomi personale indiretti vediamo quali sono i pronomi indiretti sono mi che sostituisce a me ti che sostituisce a te li o le che sostituisce a lui o a lei ci che sostituisce a noi vi che sostituisce a voi i li che sostituisce a loro cosa notiamo notiamo che avanti il complemento me te lui lei noi voi loro c'è una preposizione a me a te a lui a lei a noi questa è la differenza il pronomi diretto abbiamo detto che sostituisce me ma indiretto sostituisce a me a te a noi a voi a lui a loro dunque c'è sempre una preposizione davanti il complemento non è come il complemento diretto e per questo si chiama pronomi indiretto perché esiste una preposizione davanti il complemento d'oggetto così la forma sarà indiretta e per questo si chiamano pronomi diretti e pronomi indiretti spero che avete capito questa nota non c'è una grande differenza tra pronomi diretti indiretti solo con lui e lei pronomi diretti sono lo e la ma indiretti sono gli e le prendiamo uno o due esempi alla sera chiamo marco alla sera lo chiamo non mangio la carne non la mangio ora telefono a marco ora gli e telefono racconto tutto ad anna le racconto avete notato che c'è una preposizione davanti marco e anna e per questo mettiamo un pronomi indiretto ma nella prima frase alla sera chiamo marco direttamente non c'è una preposizione per questo mettiamo un pronomi diretto alla sera lo chiamo la conclusione quindi ragazzi i complimenti diretti si collegano direttamente all'alimento da cui dipendono senza l'uso di preposizioni ad esempio maria cuoce la pasta non c'è una preposizione non voglio niente tutti guardavano lui ma nei complimenti indiretti si legano all'alimento dal quale dipendono per mezzo di una preposizione dunque esiste una preposizione il cane del mio vicino abbaia di notte sono indiretti anche i pronomi a toni come mi ti gli le civili e sapete già cosa vuol dire un pronome a tono dunque sono indiretti le ultime frasi non si importano finiamo con questa paragone pronomi diretti sono miti la lo civili le ma pronomi indiretti sono anche miti c'è la differenza qui li le abbiamo anche civi ma loro maschile femminile e li nell'indiretto e li non è come diretto li le ad esempio maria e marca li a mario e paolo li dunque solo li alla fine io vi lascio un lien non la descrizione che contiene un exercice per praticare la lezione e se avete capito la lezione non dimenticate di cliccare mi piace e iscriveteci sul nostro canale youtube e grazie bene per l'ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti